Avrebbe spinto la figlia di soli 11 anni a chiamare la madre per dirle di buttare la sostanza stupefacente detenuta in casa prima dell'arrivo dei carabinieri. Un 42enne di Fiumefreddo di Sicilia arrestato ieri mattina dovrà rispondere non solo di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti ma anche dell'accusa di determinazione al reato di persona non imputabile. Di questo reato è accusata anche la madre della minore. I carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia al termine di un'attività info-investigativa ieri mattina hanno deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo con il supporto dell'unità cinofila antidroga del nucleo di Nicolosi. Approfittando dell'obbligo di firma a cui era sottoposto il 42enne lo hanno atteso in caserma. L'uomo si è presentato con la figlia 11enne che subito dopo avrebbe dovuto essere accompagnata a scuola. Nel frattempo alcuni militari hanno raggiunto la casa del 42enne per compiere la perquisizione ed hanno trovato la convivente. Quando il telefono di quest'ultima è squillato i carabinieri l'hanno costretta a rispondere in viva voce. Era la figlia di 11 anni incaricata dal padre di avvertirla dell'arrivo dei militari. Nella casa trovati grazie al fiuto del pastore tedesco Auro circa 10 grammi tra cocaina ed eroina, già suddivise in dosi 90 compresse usate per il taglio della sostanza stupefacente. Oltre a un biloncino di precisione e materiale usato per confezionare lo stupefacente, tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.